Il capretto per la pelle spagnola, Baldini ricordò. Alcuni giorni prima aveva ordinato le pelli da Grimal, le più fini e morbide pelli lavabili per la cartella da scrittorio del Conte Veramont, quindici franchi al pezzo, ma in realtà non aveva più bisogno di niente, poteva risparmiare denaro. D'altra parte, se rimandava indietro il ragazzo così, chissà, avrebbe potuto dare un'impressione negativa, forse ci sarebbero stati i pettegolezzi, sarebbero nate dicerie, Baldini era diventato inattendibile, Baldini non accettava più incarichi, non era più in grado di pagare, e una cosa simile non andava bene, no, 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 perché una cosa simile abbassava il valore di vendita del negozio. Meglio accettare quelle inutili pelli di capra, nessuno doveva venire a sapere nel momento sbagliato che Giuseppe Baldini aveva cambiato vita. Entra. Fece entrare il ragazzo e si avviarono verso il negozio. Baldini davanti con il candeliere, Grenoie dietro con le sue pelli. Era la prima volta che Grenoie entrava in una profumeria, un luogo in cui gli odori non erano accessori, ma costituivano in tutto e per tutto il centro dell'interesse. naturalmente conosceva tutte le profumerie e le drogherie della città. Per intere notti era stato a guardare la merce esposta, il naso premuto contro le fessure della porta. Conosceva tutti gli aromi trattati in questo negozio e dentro di sé aveva immaginato spesso di combinarli in splendidi profumi. Quindi non lo aspettava nulla di nuovo, ma così come un bambino dotato di talento musicale arde dal desiderio di vedere un'orchestra da vicino, oppure in chiesa di salire una volta finito al matroneo per vedere la tastiera nascosta dell'organo, allo stesso modo Grenoie ardeva dal desiderio di vedere una profumeria all'interno. E quando aveva appreso che si dovevano consegnare le pelli a Baldini aveva fatto tutto il possibile per poter sbrigare lui questa commissione. E ora si trovava nel negozio di Baldini, il luogo di Parigi che nello spazio più ristretto raccoglieva il maggior numero di aromi professionali. Non vedeva molto alla luce vacillante della candela, appena l'ombra del banco di vendita con la bilancia. I due ironi sopra la vaschetta, una poltrona per i clienti, i scaffali sculi alle pareti, il rapido balenare degli utensili d'ottone e le etichette bianche sui recipienti di vetro e sui vasi. E non sentiva neppure più odore di quanto non avesse già sentito dalla strada. Ma avvertì subito la severità che regnava in questi ambienti. Si potrebbe quasi dire la sacra serietà, se la parola sacro avesse avuto qualche significato per Grenoie. avvertì la fredda serietà, la concretezza commerciale, l'asciutto senso degli affari che traspiravano da ogni mobile, da ogni utensile, dalle tinozze e dalle bottiglie e dai vasi. E mentre seguiva Baldini, all'ombra di Baldini, poiché Baldini non si curava di fargli luce, fu colto dal pensiero che il suo posto era qui e da nessun'altra parte, che qui sarebbe rimasto e da qui avrebbe scardinato il mondo. Naturalmente questo pensiero era di una presunzione addirittura grottesca. Non c'era nulla, ma proprio assolutamente nulla che potesse far sperare a uno sconosciuto bracciante di conceria di origine e dubbia, senza legami e senza protezione, senza la minima posizione corporativa, di installarsi nel più rinomato negozio di profumi di Parigi. Tanto più che, come sappiamo, la cessazione d'attività del negozio era già decisa. Purtuttavia, quella che si esprimeva nei pensieri immodesti di Grenoy non era neppure una speranza, bensì una certezza. Avrebbe lasciato questo negozio, ne era sicuro, soltanto per andare a prendere i suoi vestiti da Grimal e poi non più. La zecca aveva fiutato il sangue. Per anni era stata immobile, incapsulata in sé e aveva aspettato. Ora si sarebbe lasciata andare, nella buona e nella cattiva sorte, senza alcun rimedio e per questo la sua certezza era assoluta. Avevano attraversato il negozio. Baldini aprì la porta del locale posteriore situato verso il fiume, che fungeva in parte da bottega e da laboratorio, dove si facevano bollire i saponi e si rimestavano le pomate e si mescolavano i profumi in bottiglie panciute. «Qui», disse Baldini, e indicò un grande tavolo davanti alla finestra. «Mettile qui». Grenoy sbuccò fuori dall'ombra di Baldini, depose le pelli sul tavolo, si ritrasse di nuovo rapidamente e si mise tra Baldini e la porta. Baldini rimase fermo ancora per un momento, spostò appena la candela di fianco per non far cadere sul tavolo gocce di cera e fece passare il dorso del dito sulla parte liscia del cuoio. Poi capovolse la prima pelle e fece scorrere il dito sulla parte interna, vellutata, ruvida e morbida a un tempo. Era di una qualità molto buona quel cuoio, sembrava fatta apposta per una pelle spagnola. Durante l'asciugatura non si sarebbe deformato, ripassando la devere con l'apposita stecca sarebbe ridiventato flessibile. Se ne accorse subito, già soltanto pressandolo tra il pollice e l'indice. Poteva assorbire profumo per 5 o 10 anni. La qualità era molto, molto buona. Forse ne avrebbe fatto dei guanti, tre paia per sé, tre paia per sua moglie, per il viaggio a Messina. Ritrasse la mano. Il tavolo da lavoro era commovente a vedersi con tutti gli oggetti pronti. La bacinella di vetro per il bagno aromatico, la lastra di vetro per asciugare, i mortai per mescolare la tintura, il pestello, la spatola, il pennello, la stecca e le forbici. Era come se gli oggetti stessero dormendo soltanto perché era buio e l'indomani si dovessero risvegliare. Doveva forse portare il tavolo con sé a Messina e una parte dei suoi strumenti, soltanto i pezzi più importanti? Si stava seduti molto comodi e si lavorava bene a quel tavolo. Era fatto di legno di quercia, compreso il piedistallo, ed era controventato di traverso, cosicché non vacillava e non dondolava per niente quel tavolo e negli acidi, nell'olio, nei tagli di coltello riuscivano a rovinarlo. Sarebbe costato un patrimonio portarlo a Messina, anche con la nave. E dunque è meglio venderlo. Il tavolo sarà venduto domani e sarà ugualmente venduto tutto quello che c'è sopra, sotto e accanto. Perché lui, Baldini, aveva in sé un cuore sentimentale, ma aveva anche un carattere forte e per questo avrebbe portato a termine la sua decisione per quanto gli costasse. Con le lacrime agli occhi avrebbe venduto tutto e, non di meno, l'avrebbero fatto perché sapeva che era giusto, aveva ricevuto un segnale. Si girò per andarsene ed eccolo lì, sulla porta, quel piccolo individuo ingobbito del quale si era già quasi dimenticato. È buono, disse Baldini, riferisce al padrone che il cuoio è buono, passerò a pagarlo nei prossimi giorni. Va bene, disse Grinoi e rimase lì, sbarrando la strada Baldini che si accingeva a lasciare la bottega. Baldini restò un po' sorpreso, ma non sospettando nulla ritenne che il comportamento del ragazzo fosse dovuto non a sfacciataggine, bensì a timidezza. Che cosa c'è? chiese. Hai ancora qualcosa da dirmi? Ebbene, parla! Grinoi stava in piedi, un po' curvo, e osservava Baldini con quello sguardo che in apparenza tradiva ansietà, ma in realtà aveva origine da una vigile tensione. Voglio lavorare da lei, maître Baldini, voglio lavorare da lei nel suo negozio. Queste parole furono dette non in tono di preghiera, bensì in tono di pretesa, e in realtà non furono proprio dette, bensì cacciate fuori, similate alla maniera infida di un serpente. E di nuovo Baldini scambiò l'orgoglio smisurato di Grinoi per goffaggine e fanciullesca. Gli sorrise amichevolmente. Sei un apprendista acconciatore, figlio mio, disse. Io non ho modo di utilizzare un apprendista acconciatore, ho anche un socio, e non ho bisogno di un apprendista. Vuole che queste pelli di capra siano profumate, maître Baldini? Queste pelli che le ho portato vuole che siano profumate? mi svegliò Grinoi come se non avesse tenuto affatto conto della risposta di Baldini. Infatti, disse Baldini, con amore psiche di Pellissier, chiese Grinoi e si ingobbì ancora di più. A questo punto un leggero brivido attraversò il corpo di Baldini, non perché si chiedesse come mai il ragazzo fosse così esperto, ma soltanto per avere sentito nominare quell'odiato profumo che il giorno stesso non era riuscito a decifrare. Come ti viene in mente l'idea assurda che userei un profumo di altri per... Ce l'ha addosso? Bisbigliò Grinoi. Lo porta sulla fronte e nella tasca destra della giacca ha un fazzoletto che ne è imbevuto. Non è buono questo amore psiche, cattivo, contiene troppo bergamotto e troppo rosmarino e troppo poco olio di rose. Ah, così, disse Baldini, totalmente sorpreso da quella virata del discorso nell'esattezza. Che altro ancora? Fiori d'arancio, limoncello, garofano, muschio, gilsomino, alcol etilico e qualche cosa di cui non conosco il nome. Ecco, guardi, in questa bottiglia e indicò col dito nell'oscurità. Baldini spostò il candeliere nella direzione indicata. Il suo sguardo seguì l'indice del ragazzo e cadde su una bottiglia nello scaffale che era piena di balsamo giallo-grigio. Storace? Chiese, grenoia nuì, sì, è questo che c'è dentro, storace, e poi si curvò come fosse contratto da un crampo e sussurrò almeno una dozzina di volte la parola storace, tra sé e sé, storace, 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 storace. Baldini avvicinò la candela a quel mucchietto umano che gracchiava storace e pensò o è invasato o un imbroglione disonesto o un grande artista. Infatti, che le sostanze citate nella giusta combinazione potessero dare come risultato amore e psiche era senz'altro possibile, era addirittura provabile olio di rosa, fiore di garofono e storace, queste erano le tre componenti che il pomeriggio aveva cercato così disperatamente. Ad esse si aggiungevano le altre sostanze della composizione che anche lui credeva di aver individuato come strati di una bella torta perfetta. Ora si trattava soltanto di trovare la proporzione esatta in cui bisognava combinarle. Per scoprirla, lui Baldini avrebbe dovuto sperimentare per giorni un lavoro orribile, quasi peggiore della semplice identificazione delle sostanze, poiché ora si trattava di misurare, di pesare, di annotare e inoltre di prestare un'attenzione diabolica dato che la minima desattenzione, un tremito della pipetta, un errore nel computo delle gocce avrebbe potuto rovinare tutto e ogni tentativo fallito era tremendamente dispendioso, ogni miscela rovinata costava un piccolo patrimonio. Voleva mettere alla prova quel piccolo essere umano, voleva chiedergli la formula esatta di amore psiche, se la sapeva in grammi e gocce esatti allora ero chiaramente un imbroglione che in qualche modo aveva ottenuto con la frode la ricetta da pelissier per procurarsi l'accesso e l'impiego presso Baldini, ma se l'indovinava all'incirca allora era un genio nel campo dell'olfatto e in quanto tale stimolava l'interesso professionale di Baldini, non che Baldini mettesse in dubbio la decisione presa di cedere il negozio, non gli importava del profumo di pelissier in quanto tale anche se il ragazzo gliel'avesse procurato a litri. Baldini neanche per sogno avrebbe pensato di profumare con quello la pelle spagnola per il conte Veramont, ma tuttavia uno non era stato profumiere per tutta la vita non si era occupato per tutta la vita della combinazione degli aromi per poi perdere da un momento all'altro tutto il suo entusiasmo professionale ora gli interessava riuscire a strappare la formula di quel maledetto profumo e più ancora indagare sul talento di quel ragazzo inquietante che gli aveva letto un profumo sulla fronte voleva sapere che cosa c'era dietro era semplicemente curioso sembra che tu abbia un buon naso giovanotto disse quando Grenoy smise di gracchiare e fece un passo indietro nel laboratorio per deporre con prudenza il candeliere su un tavolo da lavoro senza dubbio un buon naso ma ho il miglior naso di Parigi ma i trebaldini lo interruppe Grenoy con voce stridente conosco tutti gli odori del mondo tutti quelli che esistono a Parigi tutti solo che di Acuni non conosco il nome ma posso imparare anche i nomi tutti gli odori che hanno un nome non sono molti sono solo qualche migliaio li imparerò tutti non dimenticherò mai il nome del balsamo storace il balsamo si chiama storace così si chiama storace taci gridò Baldini non interrompermi quando parlo sei impertinente e presuntuoso non c'è nessuno che conosca mille odori per nome persino io non ne conosco mille per nome ma soltanto qualche centinaio perché nel nostro mestiere ce n'è soltanto qualche centinaio tutti gli altri non sono odori ma puzze Grenoel che durante la sua lunga e rompente intromissione verbale si era quasi disteso in tutto il corpo per un attimo nelle citazioni aveva persino allargato le braccia in cerchio quasi a indicare tutto tutto ciò che conosceva alla replica di Baldini in un attimo si ritrasse nuove in sé come un piccolo rospo nero e rimase fermo sulla soglia in immobile attesa naturalmente da tempo mi è chiaro proseguì Baldini che amore e psiche è composto di storace olio di rose e fiori di garofano come pure di bergamotto e di estratto di rosmarino ed eccetera per scoprirlo occorre come ho detto soltanto un naso discretamente fine e può essere senz'altro che Dio ti abbia concesso un naso discretamente fine come l'ha concesso anche a molti molti altri soprattutto tutta la tua età tuttavia il profumiere e qui Baldini sollevò l'indice e inarcò il pettin fuori il profumiere deve avere qualcosa di più di un naso discretamente fine deve avere un organo olfattorio addestrato in decine decine d'anni che operi senza lasciarsi corrompere e che lo ponga in condizioni di decifrare anche gli odori più complessi per natura e quantità come pure di creare miscele aromatiche nuove sconosciute un naso simile e batte il proprio dito con il proprio con il dito non lo sia giovanotto un naso simile lo si conquista con perseveranza e con diligenza oppure sapresti dirmi di prima acchito la formula esatta di amore psiche ebbene la sapresti Grenoil non rispose sapresti forse dirmela all'incirca chiese Baldini e si chinò un po' qui in avanti per vedere meglio quel rospo sulla porta soltanto così a occhio e croce approssimativamente ebbene parla miglior naso di Parigi ma Grenoil taceva vedi disse Baldini soddisfatto e deluso un tempo e si rialzò di nuovo non ne sei capace naturalmente no e come potresti tu sei come uno che mangiando si accorge che se nella zuppa c'è del cerfoglio o del prezzemolo bene già qualcosa ma sei ancora lontano dall'essere un cuoco per questo in ogni arte e anche in ogni mestiere ricordalo prima di andartene il talento non vale nulla la cosa più importante è l'esperienza che si conquista con la modestia e con la diligenza prese il candeliere dal tavolo quando la voce compressa di Grenoil strepitò dalla porta non so che cosa sia una formula ma questo non lo so ma per il resto so tutto una formula è l'alfa e l'omega di ogni profumo replicò Baldini severo poiché ora voleva mettere fine al discorso è l'indicazione precisa del rapporto in cui si devono miscelare i singoli ingredienti per cercare un profumo desiderato inconfondibile questa è la formula e la ricetta se capisci meglio questa parola formula formula gracchiò Grenoil e la sua figura contro la porta si ingrandì leggermente io non ho bisogno di una formula ho la ricetta del naso devo miscelare miscelare gli ingredienti per lei maître devo miscelarli vuole come gridò Baldini in tono piuttosto alto e tese la candela dinanzi al viso dell'ognomo come miscelarli per la prima volta Grenoil non indietreggiò ma sono tutti qui gli aromi che occorrono sono tutti qui in questa stanza disse e indicò di nuovo nell'oscurità ecco l'olio di rose ecco i fiori d'arancio ecco i fiori di carofano ecco il rosmarino certo che sono qui Muggi Baldini sono tutti qui ma ti ripeto testa di legno che non serve a niente se non si ha la formula ecco il gilsumino ecco l'alcol etilico ecco il bergamotto ecco lo storace continuava a gracchiare e a ogni nome indicava un punto della stanza dove era così buio che tutto al più si poteva individuare l'ombra dello scaffale con le bottiglie tu vedi bene anche di notte eh lo schernì Baldini tu hai soltanto il naso più fine ma anche la vista più acuta di Parigi eh se hai anche orecchie discretamente buone aprile perché ti dico sei un piccolo imbroglione probabilmente sei riuscita a carpire qualche notizia da pelissier hai saputo qualcosa spiando non è vero e credi di potermi abbindolare ora Grenoie si era disteso in tutto il corpo stava per così dire contro la porta nella sua grandezza naturale con le gambe leggermente divaricate e le braccia leggermente protese di modo che aveva l'aspetto di un ragno nero aggrappato alla soglia e al riquadro della porta mi dia dieci minuti disse parlando in modo piuttosto sciolto e le fabbricherò il profumo amore psiche ora subito è qui in questa stanza maître mi dia cinque minuti credi che ti lascerò pasticciare nel mio laboratorio con essenze che valgono un patrimonio tu? si disse Grenoie esclama Baldini e butto fuori tutto il fiato che aveva in una sola volta poi trasse un profondo respiro guardò a lungo il ragnesco Grenoie e riflettè in fondo e lo stesso pensò perché comunque domani sarà finito tutto so per certo che non può fare quello che afferma di saper fare non può assolutamente perché in tal caso sarebbe ancora più grande del grande frangipane ma perché non dovrei lasciare che mi dimostri quello che già so altrimenti forse un giorno a Messina talvolta con l'età si diventa ben strani e ci si impunta sulle idee più assurde potrebbe venirmi il pensiero di non avere riconosciuto in quanto tale un genio dell'olfatto una creatura ampiamente beneficiata dalla grazia di Dio un bambino prodigio e del tutto escluso è del tutto escluso secondo quello che mi dice la ragione è escluso ma esistono i miracoli questo è certo ebbene se un giorno a Messina dovessi morire e sul letto di morte mi venisse il pensiero allora quella sera a Parigi hai chiuso gli occhi davanti a un miracolo non sarebbe molto piacevole Baldini e anche se questo pazzo sperperasse poche gocce di olio di rose e di tintura di muschio anche tu le avresti sperperate se davvero il profumo di Pellissier ti avesse interessato ancora e che cosa sono poi poche gocce per quanto costose molto molto costose paragonate alla certezza del sapere e a una sera tranquilla nella tua vita attento disse con voce a bella posto severa attento io come ti chiami poi Greneux disse Greneux Jean-Baptiste Greneux bene disse Baldini allora attento Jean-Baptiste Greneux ho riflettuto devi avere l'occasione ora subito di provare quanto affermi per te sarà anche l'occasione di imparare con un clamoroso fallimento la virtù della modestia la quale alla tua giovenetà forse ancora poco sviluppata è scusabile sarà un presupposto indispensabile per la tua successiva evoluzione come membro della tua corporazione del tuo ceto come marito come suddito come essere umano e come buon cristiano sono pronto a impartirti questa lezione a mie spese perché per certe ragioni oggi ho voglia di essere generoso e chissà forse un giorno il ricordo di questa scena mi darà un po' di serenità ma non crede di potermi abbindolare il naso di Giuseppe Baldini è vecchio ma fine abbastanza fine da stabilire immediatamente anche la minima differenza tra la tua mistura e questo prodotto e così dicendo tolse dalla tasca il suo fazzoletto imbevuto di amore psiche e lo agitò sotto il naso di Grenoil avvicinati miglior naso di Parigi avvicinati a questo tavolo e mostra quello che sai fare ma attento a non farmi cadere niente e a non gettarmi a terra qualcosa non toccarmi niente per prima cosa voglio fare più luce dobbiamo avere una grande illuminazione per questo piccolo esperimento non è vero e con questo prese altri due candelieri che si trovavano sul bordo del grande tavolo di quercia e li accese li sistemò tutti e tre l'uno accanto all'altro sul lato lungo posteriore del tavolo spostò il cuoio di lato e liberò il centro del piano poi con gesti calmi e veloci prese gli strumenti che il lavoro richiedeva da un piccolo scaffale la grossa bottiglia panciuta per le miscele l'imbuto di vetro la pipetta il piccolo e il grande bicchiere graduato e li depose con ordine davanti a sé sul piano di quercia nel frattempo grenoil si era staccato dal riquadro della porta già durante il pomposo discorso di baldini aveva perso quel che di rigido di teso e represso aveva aveva sentito soltanto l'assenso soltanto il sì e con l'intima felicità di un bambino che è riuscito a strappare una concessione e se ne infischia delle limitazioni delle condizioni degli ammonimenti morali che vi sono connessi mentre stava lì rilassato per la prima volta più simile a un essere umano che un animale a subire il resto della locuacità di baldini sapeva di aver già vinto quest'uomo che ora gli aveva ceduto baldini si stava ancora dando da fare con i suoi candelieri sul tavolo e già grinoil era scivolato nella parte buia del laboratorio dove si trovavano gli scaffali con le preziosi essenze di oli e le tinture e seguendo il fiuto sicuro del proprio naso aveva afferrato dalle mensole le bottigliette occorrenti erano nove di numero essenza di fiori d'arancio olio di limoncello olio di garofone olio di rose estratto di gelsumino di bergamotto e di rosmarino tintura di muschio e balsamo di storace che tolse rapidamente dallo scaffale e sistemò sul bordo del tavolo da ultimo tirò giù un pallone contenente alcol etilico ad alta gradazione poi si mise dietro a baldini che stava sempre sistemando i suoi recipienti per miscelare con misurata pedanteria spostava un bicchiere un po' più in là un altro un po' più in qua perché ogni cosa avesse la sua giusta collocazione e il candeliere offrisse le condizioni di luce più favorevoli e attese tremante ed impazienza che il vecchio si allontanasse e gli facesse posto ecco disse baldini alla fine e si spostò di lato qui è allineato tutto quello che ti occorre per il tuo chiamiamolo amichevolmente esperimento non rompermi niente non versarmi niente perché ricordati questi liquidi che tu ora potrai maneggiare per cinque minuti sono di una tale preziosità e rarità che in vita tua non ti capiterà mai più di averli tra le mani in forma così concentrata quanto devo farne ne metri chiese Greneux fare cosa disse baldini che non aveva ancora finito il suo discorso quanto profumo gracchiò Greneux quanto ne vuole avere devo riempire questa grossa bottiglia fino all'orlo e indicò una bottiglia per miscele che aveva una capienza di tre litri buoni no non devi gridò baldini con orrore e da lui gridava la paura profondamente radicata e spontanea un tempo dello spreco delle sue sostanze e subito dopo come se si vergognasse di quel grido rivelatore urlò e neppure devi interrompermi quando parlo per poi proseguire in tono più tranquillo con la solita sfumatura ironica a che ti servono tre litri di un profumo che nessuno di noi due apprezza in fondo basterebbe un mezzo misurino ma poiché quantità così piccole sono difficili da miscelare ti permetterò di cominciare a riempire un terzo della bottiglia bene disse Greneux riempirò un terzo di questa bottiglia con amore psiche ma maître baldini lo faccio a modo mio non so se sia il modo regolamentare perché quello non lo conosco ma lo faccio a modo mio prego disse baldini il quale sapeva che in questo lavoro non esisteva il mio o il tuo ma solo un modo un unico modo possibile giusto che consisteva conoscendo la formula e tenendo conto della relativa trasformazione nella quantità finale da ottenere nel produrre un concentrato delle diverse essenze dosato con estrema esattezza il quale poi si sarebbe spiritualizzato nel profumo finale con l'alcol di nuovo in una proporzione esatta oscillante per lo più tra 1 e 10 e 1 a 20 un altro modo lo sapeva non c'era e per questo dovete sembrargli quasi un miracolo quello che poi vide e osservò dapprima con beffardo di stacco poi con perplessità e infine soltanto con inerme stupore e la scena si incise a tal punto nella sua memoria che non la dimenticò più sino alla fine dei suoi giorni